e poi ha detto una certa narrazione rischia di essere smontata e questo è un problema che alcuni hanno non con noi ma con le loro posizioni interne riferendosi alla per esempio alla cancelleria francese e daniela qui qui mi devi aiutare tu no cioè che tipo di narrazione a distanza di otto mesi dall'insediamento quella di giorgio menone siamo sempre l'underdog lei continua a fare la parte di quella che è stata sottovalutata e che da questo trae vantaggio a un certo punto dovrà finire adesso ormai la valutiamo tutti per quello che è cioè la presidente del consiglio io sorrido sono d'accordo con beckis sulla questione delle risorse per il taglio il cuneo fiscale io sorrido quando un presidente una presidente del consiglio dice io spero dipende da lei non è dipende da qualcun altro adesso lei più che sperare deve davvero ritiene che questa sia una priorità del paese e deve lavorare per trovare quei fondi per farli trovare al ministro della dell'economia tengo i toni bassi perché io condivido totalmente la la vostra compostezza in questo momento ci sono televisioni accese nelle zone alluvionate e credo che noi dobbiamo rispettare tutti e tutte quello che sta succedendo là e siamo visti anche da là lo so per certo e però insomma la presidente del consiglio deve dare risposte non deve io la smetterei anche con questa storia vabbè naturalmente non ha bisogno dei miei consigli però insomma questa storia della narrazione della della vittima di è tutto finita quella è un'altra stagione lei sta fuori da quella storia è diventata la presidente del consiglio siamo in un'altra fase qui da un certo punto anche registro deve cambiare tutte le responsabilità e anche sulla questione della dei rapporti con la Francia posso dire una cosa non lo dico per la categoria che è una categoria di cronisti che hanno tanti difetti con se non fosse che lo dicesse il potere potrei dire che avrebbe ragione su tutto solo che il potere non può dirlo allora non è che noi si dice che lei ha problemi infantili con macrono con qualche con qualche ministro e lei che abbiamo iniziato noi in realtà ad attaccare il governo francese certi atteggiamenti francesi e poi abbiamo ricevuto diciamo risposte un po stizzite è normale che governi di segno diverso che può di segno politico diverso che pure ovviamente collaborano perché siamo in europa e abbiano delle diverse idee di politiche e se le dicano a distanza è normale che macron non la pensi come lei lei è una leader della destra radicale ma macron è un leader liberale e non è che viene abolita la politica e non si tratta di ingerenza e non si tratta si tratta di politica non c'è problema dovrebbe andare ben oltre più più sopra da queste polemicucce stiamo parlando